La petizione per ridare alla città la sua dignità è una biblioteca degna del suo nome, sia la biblioteca all'interno della villa comunale, diciamo sì alla biblioteca dell'ex ospedale militare, diciamo sì con forza alla cultura di questa città tragicamente ferita nel giugno del 2009, diciamo e chiediamo, firmiamo biblioteca dell'ex ospedale militare di Chieti e la villa. Sì, votate lignali, votate lignali.